Buongiorno e bentrovati alla Rassegna Stampa, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Teleduna. Archiviati i risultati elettorali che ieri abbiamo visto dalle pagine dei giornali è cominciato il dibattito. Cominciato il dibattito per capire quali sono le ragioni di questo astenzionismo di massa che ha colpito un po' tutta l'Italia. Roma in primis hanno votato nella capitale poco più della metà degli aventi diritto. È cominciato il dibattito soprattutto tra le fila di chi ha perso, se così si può dire, in queste elezioni, ovvero il Movimento 5 Stelle con una diminuzione dei voti rispetto soprattutto a quelle che sono state le politiche di febbraio davvero impressionanti. Ha perso più di 15 punti percentuali, possiamo dire, quelli che in realtà poi alla fine sono gli astenuti. Perché è successo questo? Lo analizzeremo attraverso i giornali di oggi, vedremo anche quali sono state le parole di Grillo che ne ha avuto un po' per tutti come sempre nel suo stile, soprattutto con gli italiani. Il re, secondo il comico genovese, di non aver capito nulla, di affidarsi ancora una volta ai partiti che sono stati i veri protagonisti di questa crisi senza precedenti. Anche in provincia di Napoli ci si prepara a quelli che sono i ballottaggi, arriverà anche Renzi per quanto riguarda il Partito Democratico in settimana per smuovere qualche voto. Ballottaggio che ci sarà anche a Roma tra Marino e Alemanno, Marino del candidato del centro-sinistra che avanti poco più di 12 punti percentuali, lo vedremo nei dettagli. Parleremo della situazione trasporti a Napoli che si fa sempre più critica, soprattutto per i consumatori e per i pendolari e infine parleremo di sport, di calcio con Napoli che comincia a prendere forma dopo che è stato ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore Rafa Benitez direttamente da Londra. Vedremo quali sono le possibili situazioni di mercato, più che quelle in entrata, che se ne è parlato tantissimo, aspettiamo Benitez che arriverà a Napoli la settimana prossima, anche quelle in uscita, chi sono quelle che molto probabilmente lasceranno Napoli proprio per non saranno del Napoli nella prossima stagione. Ma andiamo per gradi, cominciamo a vedere le prime pagine, partiamo dal Corriere della Sera che apre sul dibattito post-amministrativo. Grillo, la colpa è degli italiani, l'ira dopo il tracollo alle amministrative, malumori anche nel PDL, Cicchitto bisogna riflettere. Una decina di parlamentari pensa di formare addirittura un altro gruppo, c'è area di spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle, anche all'interno della base elettorale, lo vedevamo già nei mesi scorsi. Venezia, partecipazione record e 10 nuovi paesi, alte yacht, si apre la storica biennale di Venezia. Di spalla sulla destra, fermare l'aumento dell'IVA, saccomanni la priorità va data agli investimenti, se condizioni dell'Europa con la promozione sul deficit. Ancora in primo piano l'aumento dell'IVA, così come la sospensione dell'IMU che ci hanno accompagnato dall'inaugurazione proprio del nuovo governo. Il femminicidio dal taglio basso del Corriere della Sera, un passo in avanti, la Camera approva la Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza, lo vedremo a breve nei dettagli. Mentre passiamo alla prima del mattino che apre sulla politica, sul flop del Movimento 5 Stelle e processo a Grillo, intesa sulle riforme, ma resta il Porcellum, giustizia e il nuovo blitz di Nitto Palma, spacca il PDL, sospendere i PM politicizzati, continua la lotta continua tra PDL e magistratura. Il leader tutta colpa degli italiani, parliamo di Grillo ovviamente, ma la base non abbiamo mantenuto le promesse, c'è sconforto alla base del Movimento 5 Stelle, è venuta alla ribalta quelle che sono state poi le ragioni dei voti, dei tantissimi voti di massa nel febbraio scorso, tanti quelli di protesta, noi li vedevamo anche dai sondaggi che i colleghi della redazione di Teleluna hanno fatto per le strade di Napoli, tanti sono stati quelli di protesta per il malcontento, la mancanza di fiducia nella casta che anche Grillo ha contribuito a creare, una mancanza di fiducia in certi casi oggettiva per determinati scandali che sono capitati in politica. Stop all'aumento dell'IVA anche sulla prima del mattino, sarà più difficile, saccomanni vengono prima gli investimenti. Allarme coca, Napoli peggio di Milano, nell'inchiesta che ci propone il mattino in prima pagina, il rapporto sulle droghe, torna ad aumentare tra i minorenni il consumo di hashish e marijuana, cresce lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole e attraverso la rete internet. La fotonotizia è che vedete questa motocicletta parcheggiata e parcheggiata all'interno del Palazzo Reale, Scempio Reggia, moto parcheggiata in soprintendenza ed ancora scandalo per la gestione della Reggia di Caserta. Nel taglio basso del mattino, Tartaglia un tesoro di 100 milioni, l'inchiesta sul broker Campano, la truffa per coprire il buco del Viminale. Sempre dal taglio basso, anticipando quelli che saranno i temi caldi del calcio, Cavani orgoglioso di essere azzurro dall'Uruguay, messaggi ai difusi, la riconferma è sempre più vicina, messaggi di apertura per un rinnovo di contratto che non è più un'utopia. Prima pagina del mattino di Napoli che apre sui trasporti e sullo scandalo all'aeroporto. Valice più pesanti, truffa in aeroporto, capo di chino, un passeggero protesta e scattano i controlli. La GESAC, nessuna irregolarità, solo un'anomalia. Blitz della finanza dopo una denuncia, bilancio è fuori tara, incassate somme che non ne erano dovute. La Regione, aumenti per quanto riguarda i trasporti, aumenti illegittimi, il costo dei biglietti va abbassato, ridotto a 1,20 euro, è stato un aumento non congeniale a caso. Partirà il forum delle culture, lo vediamo di spalla sulla destra dalla prima del mattino, 16 milioni per la Germes, 12 andranno al San Carlo. Continuiamo con la prima del mattino di Napoli, la fotonotizia via Caracciolo sul lungomare, come in pista. È un allarme, l'inchiesta del mattino dopo che è stata sospesa la ZTL, la centralissima via Caracciolo è ritornata come una pista di Formula 1 dove le macchine sfrecciano ad altissima velocità e mettendo in pericolo anche pedoni, lo vedremo e approfondiremo questa notizia. Il tesoro dei broker, anche dalla prima del mattino di Napoli, 100 milioni per coprire il buco del Viminale, inchiesta d'Artaglia, spunto a un biglietto di acuri inviato a Berlusconi. Ancora dalla prima del mattino, dal taglio basso, nord e sud, un patto narrativo per dire addio ai rancori, dall'esperienza comune del territorio a una nuova solidarietà nell'editoriale di Silvio Perrella. Noi passiamo alla prima del Corriere del Mezzogiorno che apre sulle amministrative, GPD e PDL volano le civiche, la caduta libera del Movimento 5 Stelle non ha favorito i due perni del Governo nazionale, il voto per i sindaci ha aperto la crisi dei maggiori partiti, a differenza di quanto un dato in controtendenza, quello napoletano a differenza di quanto dicevamo ieri con Letta che si diceva entusiasta per l'affidabilità del Governo delle Larghe Intese e per il riscontro elettorale per questo Governo delle Larghe Intese. La fotonotizia del Corriere del Mezzogiorno è dedicata a Caivano, nei campi tossici c'è la fabbrica del cancro, ha parlato Don Patriciello, aumentano tumori e aborti, c'è sempre più connessione tra i veleni interrati, diossina e rifiuti incendiati nella terra di fuochi e quelli che poi sono cancri e tumori, approfondiremo anche questa notizia nei dettagli. A proposito di politica ha parlato anche Rotondi sul caso Avellino, ha detto abbiamo sbagliato a non accordarci con De Mita, è stato un errore non trovare un accordo al primo turno con l'Udc e De Mita che ad Avellino è presente da 55 anni, del resto l'alleanza con l'Udc ha già portato noi del PDL a conquistare la Regione con Caldoro e alcune province. Sempre dalla prima del Corriere del Mezzogiorno, l'eltrodotto da 100 milioni tra crapi e truoni rannunziata, il 7 giugno si apre il cantiere di Terna sull'isola azzurra che collegherà Capri. E poi l'allarme di San Nino, senza più il biglietto unico le aziende perdono 25 milioni, l'introduzione del biglietto azientale non risolve la crisi del trasporto pubblico locale campano, snatura il sistema di integrazione tariffaria, la stima della perdita è non inferiore al 18%, che equiale ad oltre 25 milioni di Euro. Ultima notizia dal Corriere del Mezzogiorno, Movida a Pozzuoli, stop alle licenze, niente apertura dei locali in centro e sul lungomare fino al 2014. Andiamo a vedere quali sono i fatti principali del giorno, apriamo con il caos trasporti, ha parlato l'assessore incaricato Vetrella, giù il costo dei biglietti, l'assessore è illegittima l'ultima ondata di aumenti e poi l'affondo, errata interpretazione di una norma nazionale unico Napoli deve tornare a 1,20 Euro, c'era stata subito un'insurrezione dei pendolari per questo aumento dei biglietti di unico Campania, soprattutto in un momento storico davvero pessimo per quella che è la situazione dei trasporti in Campania, un aumento non proporzionale a quello che è poi il servizio che è sempre più scadente per problemi oggettivi che abbiamo imparato a conoscere anche dalle pagine dei giornali ma ovviamente il consumatore va sempre tutelato. Noi andiamo avanti dal mattino, sorpresa all'aeroporto, le valigie pesano di più, controlli della Guardia di Finanza dopo la denuncia di un passeggero sono state incassate, somme non dovute, almeno 20 bilanci su 56 risultano fuori tara, l'ipotesi è quella di un tentativo di truffa anche se l'associazione di carrioria sminuisce il caso, si tratta solo di un'anomalia che è stata risolta in una notte in un caso sfasatura al ribasso, la GESAC intervento immediato sui macchinari, evidenziate differenze di 100-200 grammi. Ancora avanti dal mattino, nessuno rispetta i limiti, il lungomare ritorna ad essere una pista, bus e auto attraversamenti pedonali ad altissimo rischio, velocità consentita 30 km all'ora, ma la segnaletica è confusa, le strisce non sono all'altezza delle fermate, mancano dissuasori e controllo, il cartello a Via Domi indica 4 posti per i disabili, ma le strisce gialle sono dipinte di blu, ricordo di quando la strada era stata trasformata in parcheggio, il racconto proprio di un disabile dal mattino, mentre vedete alcune persone che stanno attraversando sulle strisce pedonali, è davvero caotica la situazione per quanto riguarda Via Caracciolo. Noi andiamo avanti con la rassegna dal Corriere del Mezzogiorno, ci siamo occupati tempo fa di una donna a cui era stato tolto il bambino conteso tra lei e il marito, Donatella rivede i suoi bimbi appena due ore, dopo 73 giorni battipaglia al giudice autorizza la mamma a visitarli in casa famiglia e lei dice li ho trovati cambiati, hanno uno sguardo triste e duro, andiamo a vedere quali sono state le parole della mamma dopo l'incontro con i piccoli, non sono più gli stessi, hanno perduto la gioia e la serenità, li ho visti molto più induriti, l'ambiente dove stanno è curato e sono assistiti, ma nel loro sguardo ho visto tanto dolore, non abbiamo pianto ma ci siamo abbracciati a lungo senza dire una parola, hanno chiesto dei nonni, poi se era vero che dovevano restare un anno intero lì dentro ed è un problema che esiste, c'è da tantissimo tempo anche per delle leggi che non sono proprio chiare e è un problema sicuramente da risolvere perché ne va di mezzo la salute e il futuro dei bambini. Noi andiamo avanti dal Corriere del Mezzogiorno, a Caivano, Veleni in un'area 100 volte più grande dell'Ilva, Don Maurizio Barriciello, fermate l'ecidio di massa dei tumori. Nei comuni a nord di Napoli in 5 anni le malattie oncologiche aumentate del 300%, si verifica un aborto spontaneo ogni 7 parti, la denuncia del parroco da Caivano ad Acerra a Nola, Crispano, Cardito, Afragola, Giuliano, su Facebook nasce il registro dei decessi e delle malattie tra la terra dei fuochi e il triangolo della morte, davvero una situazione che è divenuta insostenibile e questa connessione tra appunto quelle che sono i veleni sversati in quelle zone e le malattie che poi vengono diagnosticate non è possibile farla perché non esiste il registro dei tumori. Il registro dei tumori che qualche mese fa è stato bocciato perché troppo costoso. Andiamo avanti dal mattino, Comune nelle casse arriveranno 58 milioni di euro. Lo vediamo dalla pagina del mattino. Concesso al Sindaco un anticipo sui 300 milioni richiesti e previsti per avere aderito alla legge predistesto, De Magistris incontra al Fano e chiede più forze dell'ordine rafforzare il PON di sicurezza dopo il faccia a faccia avviminale, vertice con Lupi e De Luca sul porto e metropolitana. Ancora avanti dal Corriere del Mezzogiorno, Terna 100 milioni per collegare l'Isola Azzurra la terraferma il 7 giugno via lavori per realizzare l'elettrodotto, scusate sottomarino, tempo previsto per completare l'opera un paio di anni. L'amministratore delegato Flavo Gattaneo e il Sindaco Ciro Limbo alla cerimonia che è stata prevista a Gasto. 30 chilometri di lunghezza dell'elettrodotto che secondo il cronoprogramma di Terna colleghera Capri a Torre Annunziata entro il 2015 29 chilometri saranno sottomarini. L'ultima notizia prima di passare alla politica, una bella iniziativa Mele e Cannella nasce il catering antiviolenza, al lavoro donne straniere sottratte alla camorra aiutateci a crescere. E noi auguriamo che questa iniziativa vada avanti come tutte le altre che in questo senso cerca di combattere la camorra, di soprattutto favorire l'integrazione anche di quelle che sono le donne straniere. Cominciamo a parlare di politica con il caso Grillo in primo piano, abbiamo visto già delle prime pagine, il comico si difende e attacca, gli italiani hanno sbagliato dal Corriere della Sera, commesso errori ma abbiamo restituito 42 milioni allo Stato, hanno fatto già il conto fino alla fine di 5 anni di governo, non si sa nemmeno che fine farà questo governo, la matematica in questi casi che diventa un'opinione. Tre comuni in cui il Movimento 5 Stelle andrà al ballottaggio, si tratta di Manti e Largo in Veneto, a Semini in Sardegna, a Pomezia nel Lazio, secondo Grillo e 5 Stelle leggeranno circa 3-400 consiglieri comunali. 3,5 migliaia di commenti al post vi capisco in cui il leader del Movimento commenta il risultato elettorale delle amministrative attaccando gli italiani che hanno preferito votare i partiti tradizionali. Ancora avanti, sempre per parlare di politica, riforme nasce il Comitato dei 40, nessun riferimento alla legge elettorale, la bicamerale sarà rigorosamente proporzionale. Epifani, non c'è ancora un accordo. Il via formale all'iter, oggi Camera e Senato daranno il via formale a questo iter con la presentazione e il voto alle emozioni sulla via del percorso di revisione dell'assetto istituzionale. Il Comitato in sede referente sarà costituito da 20 deputati e 20 senatori appartenenti a Commissione Affari Costituzionali che opererà in sede referente. Nel testo della mozione di maggioranza si fissa in 18 mesi il tempo per rivedere la forma di governo, superare il bicameralismo e ridurre il numero dei parlamentari. Dal mattino donne, l'Italia dice basta alle violenze. Approvata la Carta europea, voto unanime sulla Convenzione. Una buona notizia per Letta, la Boldrini, segnale importante. È stata votata da 545 deputati presenti in Aula, così è stata approvata alla Camera la ratifica della Convenzione di Istanbul. Il più significativo ed importante provvedimento europeo sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Credo che questa sia una buona notizia. Tanto ancora va fatto per arginare questo problema che oggi, per un motivo o per un altro, vediamo sulle pagine di cronaca di tutti i giornali, quasi tutti i giorni. È davvero impensabile. Andiamo avanti dal Corriere del Mezzogiorno, cominciamo a parlare di politica, quella che ci riguarda più da vicino. Il dibattito dopo le amministrative, PD e PDL perdono consensi, sindaci salvati dalle civiche, da Fragola a Castellammare, la crisi dei partiti. Cesaro del PDL, le elezioni sono andate bene, è evidente che il PDL avanza. Per Cimmino del PD, le elezioni dimostrano che il nostro partito avanza. Avanza sia il PD che il PDL per i rispettivi secretari. Non c'è divergenza di opinioni, anche se fanno parte di due partiti diversi ed è impossibile che possano avanzare entrambi. Renzi, il Blitz a Napoli, tour per i ballottaggi, venerdì la presentazione del libro. Ma c'è voglia di palco e retroscena per quanto riguarda la politica e i ballottaggi. Vedremo Renzi che arriverà a Napoli per presentare il libro e approfitterà per qualche comizio preelettorale, prima dei ballottaggi. È tutto per la politica, passiamo a parlare dello sport con la Gazzetta, prima della Gazzetta che apre su Mazzarri. Inter in dieci mosse, titola la Gazzetta, obiettivo scudetto si può fare, il 3-5-2 ma anche superiorità numerica, corsa, scrupolo e palle inattive. Guarin davanti alla difesa e a centrocampo come Amsic nel Napoli, difesa bunker, anche se nel Napoli non abbiamo visto proprio questa difesa bunker. Non si passa a San Siro, Andanovic non si tocca, sono le parole d'ordine di Mazzarri. Riccardi alla Cavani, recuperare poi Cassano. Vedremo cosa farà Mazzarri a Milano, sponda nerazzurra, anche se ci vuole poco per migliorare il nono posto dell'Inter di quest'anno. Vedete in foto sulla sinistra di spalla Berlusconi e Allegri, domani scatta l'ora X, Allegri a cena con Berlusconi, vedremo cosa succederà nell'ultimo incontro se Allegri rinnoverà con il Milano o andrà alla Roma. Napoli rilancia forte su Cavani, se rimane qui 7 milioni all'anno, si ripropone quello che poi già si era parlato nel mese scorso, ovvero di un contratto oneroso per Cavani per riuscire a trattenerlo a Napoli. Juve più vicina a Higuain, l'affare fatto al 70%. E ancora, Tornagattuso sarà il tecnico del Palermo, in casa Roma Totti Pallotta, clima freddo, offerte all'estero e la firma di Falcao con il Monaco c'è la clausola Pro Real. Andiamo avanti con la gazzetta edizione campana, Napoli Benitez, senti chi parla, Benitez più Cavani, significa Champions, ha parlato Ferlaino, il presidente degli Scudetti, ieri premiato anche ad una cerimonia Football Leader ad Amalfi, organizzata dai colleghi di Radio Marte, da Alessandro Sarnataro e Gifuni, Ferlaino sicuro, il club ha fatto un'ottima scelta e se resta il Matador, il futuro sarà sicuramente azzurro. A proposito di Matador, lui è dedicato alla copertina del mattino, prima pagina sportiva, svolta Cavani, titolo del mattino, orgoglioso dell'azzurro, penso solo a Napoli, Cavani che ha parlato dall'Uruguay dove sta in questo momento e ovviamente potrebbe rimanere a Napoli, è più di un'ipotesi il rinnovo del contratto. Parliamo di Benitez, dalla prima del Corriere del Mezzogiorno per quanto riguarda lo sport, Amsic e Insigne sono i Fulco, Pandev resta, Levengreen sia Insigne e Chance per il Caduri, Benitez ha scelto chi parte e chi resta, Cavani fiero di giocare con Napoli, ma da piccolo sognavo Bars e Real e l'abbiamo capito. Andiamo a vedere chi è che rimane, così come Morgan De Santis, Federico Fernandez ritornerà e rimarrà a Napoli, Paolo Cannavaro, Cristian Maggio, Zuniga se non andrà alla Juventus o all'Inter, se Napoli riuscirà a trattenerlo a rinnovare il contratto e Valor Berami su quale ha puntato l'Inter, ma difficilmente in Napoli se lo farà scappare dopo la grandissima stagione di quest'anno. Vediamo anche l'altra pagina del Corriere del Mezzogiorno per chiudere il quadro di chi rimarrà e chi andrà via, rimarrà Paolo Armero che è stato acquistato anche per sostituire un'ipotesi di partenza di Zuniga, rimarrà Goga Lindler che con Benitez sicuramente avrà vita migliore rispetto a Mazzari che non prediligeva il suo ruolo, rimarrà Lorenzo Insigne ed era scontato, un altro giovane Omar Calduri, andranno via o potrebbero andare via secondo il Corriere del Mezzogiorno, Rolando, Gian Domenico Mesto, Alessandro Gamberini, Calaio che molto probabilmente sarà scattato e girato altrove e Edu Vargas. Prima di andare a vedere quelle che sono le pagine più importanti dello sport c'è un servizio curioso preparato dalla nostra redazione, Benitez arriverà a Napoli la settimana prossima ma è già sul presepe, vediamo il servizio. Appena firmato e deve ancora dimostrare tutto, chiamato alla non facile sfida di portare il Napoli ad altissimi livelli dopo l'era Mazzarri, Marafa Benitez è già nel cuore dei tifosi. La celebre bottega artigianale di via San Gregorio Armeno infatti gli ha già dedicato una statuetta per il presepe, a realizzarla l'artigiano Jenny Di Virgilio. E' come lo vediamo in perfetta forma, un po' di pancino e l'ho accompagnato il mister con un corno collaudato, sicuramente farà bene a Napoli e a questa squadra che dovrà iniziare un po' da capo a fare acquisti, però penso che Rafa Benitez sarà un grande tecnico a Napoli. Riuscirà secondo te a sostituire Mazzarri nel cuore dei napoletani? Ma sì sicuramente, poi già le ultime parole vuole parlare il dialetto napoletano e non è l'ora di incontrare i napoletani, già è un buon segno. Il pancino gli ha fame di vittoria, quello di Benitez se riuscirà ad entrare nel cuore dei napoletani lo vedremo, ma ha detto ho la passione di voi napoletani, sono state le sue tra le prime parole che ha detto quando ha avuto l'ufficialità di diventare tecnico del Napoli. Quanto riguarda Cavani, come già suggerisce anche la Gazzetta, c'è un rilancio shock all'attaccante 7 milioni all'anno, Cavani potrebbe rimanere, se non arriverà come scriveva anche qualche collega stamattina, esattamente Gianluca Di Marzio che è un conoscitore del mercato, un intenditore, se non arriverà l'offerta dal Real Madrid molto probabilmente Cavani non andrà via e vorrà a questo punto rinnovare il contratto con il Napoli, a 7 milioni rimarrà a Napoli dove sicuramente troverà una squadra competitiva e potrà vincere qualcosa. Era l'ultima notizia per oggi, vi rinnovo gli appuntamenti, domani a partire dalle 7.30 e poi un'ora più tardi alle 8.30 è davvero tutto per questa edizione, vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di questa rete.